buongiorno eh sono le nove eh ed è il nove settembre del duemila e venti eh si procede a chiamare l'appello per accertare la presenza dei consiglieri appartenenti alla prima commissione consigliare alla seduta eh presidente Evola vicepresidente Mineo consigliere Florello consigliere Chinici consigliere Sala consigliere Arini consigliere Ferrandelli poiché nessuno dei consiglieri è presenti si rinvia la seduta alle dieci al secondo appello grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti